scarta la carta scarta la carta ragazzi direttamente da amazon un fantastico prodotto della easy hack ragazzi una ditta che lavora su amazon che è specializzata in prodotti di tecnologia di consumo tra cui oggi mi ha dato mi ha mandato per farla recensire a voi una delle loro migliori batterie per il top youtuber la top batteria ragazzi andiamo a vedere se vado a memoria 10.000 milliampere 10.000 milliampere con il massimo di output di uscita a 3,1 ampere mentre vediamo l'input cioè la velocità con cui si ricarica è 2 ampere quindi velocissima a ricaricarsi e ricarica le nostre batterie in modo ultra rapido abbiamo di uscire quindi possiamo ricaricare due dispositivi contemporaneamente c'è una piccola torcettina azionabile con un doppio clic sul pulsantino manuale di istruzioni ma non serve perché è davvero molto intuitiva questa batteria power bank si ricarica con un qualsiasi cavetto micro usb che usiamo normalmente per ricaricare i nostri android ma comunque è in dotazione non in dotazione il caricabatterie usb ma comunque va bene qualsiasi caricatore usb che abbiamo a casa prova a ricaricare il mio iphone che viene immediatamente riconosciuto e voilà questo è il mio iphone 7 plus è una batteria abbastanza grandicella ma vi ricordo che è una batteria da ben 10.000 milliampere estremo e infine volevo sottolineare l'importanza della reputazione e della riconoscibilità del marchio easy hack è una ditta molto affermata nella vendita di power bank questo fa sì che quando dichiara 10.000 milliampere è un valore veritiero a differenza a volte di prodotti simili che noi andiamo a comprare nel negozio dei cinesi dove la ditta non ha una sua reputazione da difendere vi metto in descrizione il link diretto al sito di easy hack ciao ciao e non dimenticate il pollice in su